Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. Registro questo mio breve video commento nel giorno in cui si sono svolti i funerali per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Si è trattato di un funerale di Stato, molte famiglie non hanno voluto partecipare, però altre hanno partecipato, ma quello che ha stupito è stato l'applauso che ha accolto i membri del governo quando sono entrati in chiesa. Questo è un fatto nuovo, in situazioni del genere la gente non avrebbe percepito il governo come un ente amico. Tuttavia lo stesso pubblico ha invece fischiato gli esponenti di una parte politica che evidentemente ha ritenuto tra i colpevoli di quanto è successo. Non c'è neanche bisogno di dire quale parte politica perché lo immaginerete. È un fatto politico abbastanza interessante, penso che questo segnerà anche il prosieguo della politica nel nostro paese. È stato per certi versi un momento di svolta, un governo che viene accusato di populismo, ma in realtà è un governo che si sta dimostrando vicino al popolo, almeno più vicino di quanto siano stati tutti i loro predecessori. Ecco predecessori, e su questo si è già speso un sacco di fiato in questi giorni, che hanno privatizzato tutto il privatizzabile ove la privatizzazione in realtà altro non è stato che un grande omaggio, un grande regalo a grossi gruppi finanziari. Praticamente le nostre proprietà, perché le proprietà pubbliche sono di tutti noi, sono state praticamente regalate oppure svendute o comunque vendute con dei trucchi. Adesso le autostrade si è saputo che in realtà sono state pagate con i soldi che poi avrebbero incassato con i pedaggi. Quindi praticamente è stata una concessione che è stata data via praticamente gratis. Quindi noi abbiamo finanziato con le nostre tasse un'intera infrastruttura, una delle più importanti infrastrutture di una nazione, la rete autostradale, e poi a un certo punto questa viene praticamente regalata dei privati che ci fanno poi pagare per andare sopra e i soldi invece che investirli in infrastrutture li usano in altro modo e poi succedono le cose come quella che è successo stavolta. Vabbè, questo lo dicono già in molti, quindi eviterò di soffermarmi più di tanto. Il motivo per cui faccio questo breve video è perché ci sono tre aspetti almeno, direi tecnici, che per il momento non sono stati ancora bene rappresentati e volevo invece che lo fossero, che qualcuno, volevo che qualcuno appunto ponesse un po' di attenzione su di essi. Abbiamo per il momento solo un video che mostra il crollo, diciamo la parte finale del crollo del ponte. Ecco, in questo video c'è l'inizio del video, si vede ancora il pilone che inizia a crollare, si vedono dei lampi, mi sembra due o tre lampi che provengono dal basso e che per il momento non sono spiegati. Io non ho nessuna spiegazione per questo non so che cosa potrebbero essere questi lampi, comunque sarebbe il caso che appunto chi di dovere indagasse, cercasse di produrre una spiegazione diciamo credibile, ecco perché bisogna capire che cosa è successo. Il secondo mistero o interrogativo forte è quello che riguarda un evento accaduto alla sera prima del crollo del ponte. In una trasmissione televisiva, mi sembra su TG Sky 24 se ricordo bene, un lettore telefona e a un certo punto manda un filmato che ha fatto, suppongo, col telefonino, perché la sera prima anche c'è stato un temporale, quindi brutto tempo, e lui ha notato che sopra il ponte c'era un gran via vai di mezzi, di diciamo tecnici, quindi veicoli lampeggianti eccetera, insomma stavano facendo dei lavori. Ora lui si era stupito che fare dei lavori la sera prima, scusate, non la sera prima, fare dei lavori in una sera piovosa a Ferragosto, piovosa alla grande, insomma c'era un grande temporale, era una cosa molto strana e allora ha filmato e ha mandato questo filmato a questa televisione. Lei ha filmato e vedo con voi per la prima volta queste immagini perché sono arrivati in redazione mentre già eravamo in onda, ha filmato cosa? Ma io quella sera stavo guardando un film come al solito e da Casania si vede quella parte di ponte che adesso non c'è più, vedo adesso l'agruco di lavori e quella sera c'era un porto temporale, come saprete, e mi faceva effetto vedere tutte quelle luci e i lavori che continuavano. Adesso siamo abituati a vedere sempre i lavori, la chiusura dell'autostrada, ma quella sera lì faceva davvero effetto vederli e quindi ho fatto questi pochi secondi proprio perché per questo motivo. E tra l'altro fa impressione ancora pensare che poche ore dopo poi quel ponte sarebbe crollato. La parte che si vede nel video è proprio quella che è crollata? Sì, sì, sì. Io adesso non vedo più niente, vedo proprio sbucare la gru dei lavori adesso. Non c'è più proprio quel ponte lì, con la parte del ponte. Non ho trovato questa informazione ripresa da nessun altro, quindi l'ho ripresa io, per porla all'attenzione di chi dov'era. Io penso che sia interessante scoprire come mai proprio la sera prima che un ponte crolli ci sia una squadra tecnica che non era certo lì, penso, per fare un controllo di routine, visto che, come detto, era in orario serale e durante un gran temporale. Quindi sarebbe interessante sapere che cosa stessero facendo esattamente, perché erano a corsi lì, se c'è stato qualche problema, qualche cosa che non andava. Insomma, io penso che, secondo me, ci sono gli estremi perché l'autorità giudiziaria convochi questi lavoratori, perché avranno un nome, non saranno certo anonimi, si potrà sapere bene chi sono, li convochi e gli chieda perché erano lì, che cosa hanno constatato, qual è il motivo del loro intervento e qual è, diciamo, la conclusione che hanno tratto dopo il loro intervento. Ecco, questo è un passo che, secondo me, andrebbe fatto. Il terzo problema è un problema che ho visto appunto da poco, che ne ha parlato anche Mazzucco, ed è il problema delle webcam. Io ho seguito la questione delle webcam proprio quasi in tempo reale, perché subito dopo il crollo del ponte c'è qualcuno che è andato subito nel sito delle autostrade a vedere se si è visto qualcosa nella webcam. Questo qualcuno ha trovato un video e l'ha scaricato, però era un video che si fermava subito prima del crollo. Però la stessa persona poi, credo che sia la stessa persona, ha anche notato che le autostrade, nella loro mappa delle webcam sulla rete autostradale, mancavano le due webcam, perché c'erano due webcam che inquadravano appunto il viadotto crollato e mancavano dalla mappa, cioè quindi è come se non esistessero. Non è che fossero mostrate come fuori funzione, insomma erano proprio state cancellate dalla loro mappa. A questo punto, facendo una ricerca con la Google Cache, che fa un backup di tutto il web, diciamo, per qualche giorno, questa persona ha scoperto che fino a un paio di giorni erano regolarmente segnate le due webcam che inquadravano il ponte. Io stesso poi sono andato, ho controllato, era così, poi ho controllato anche su Web Archive, potete andare anche voi su Web Archive e troverete che le due webcam erano presenti, due webcam, una per ciascun lato del ponte, tra l'altro molto lontano dalla zona del crollo. Bene, adesso non sono più presenti e tra l'altro, come detto, era stato fatto anche sparire il video del, diciamo, antecedente del crollo, nel senso che, forse non l'ho detto, ma la persona che ha scaricato questo video poi dopo ha detto che il video in seguito non era più disponibile. Lui però l'ha pubblicato ed è per questo, suppongo io, non posso avere certezze, ed è per questo che noi tutti l'abbiamo visto nei vari telegiornali, perché quel video che era virtualmente scomparso è in realtà rimasto in circolazione perché qualcuno lo aveva salvato in quella piccola finestra di pochi minuti, evidentemente, intercorsa dall'evento a quando poi è stata cancellata dal sito delle autostrade. Questa è la mia interpretazione, non pretendo di avere la verità in tasca e potrebbero essere, dico, diciamo, a mio disclaimer, anche degli errori compiuti o da me o da altri che hanno riportato questi fatti. Non ho visto il video sul sito di persona io, quindi non posso garantire che le cose siano andate esattamente così. Comunque, comunque, diciamo, resta il fatto che, diciamo, il problema si tinge veramente di giallo, adesso che è arrivata, pare la dichiarazione che i film, le riprese del crollo dei punti effettuate da queste webcam non esistono. Ora, questa è una notizia sconcertante perché non possono non esistere. Da quello che ho letto parrebbe che il motivo per cui si è detto che non esistono queste riprese è perché ci sono stati, insomma, l'onda sismica del crollo dei ponti, non so, ha creato dei problemi, ha una cattiva connessione. Ora, sinceramente, a me sembrano delle scuse campate per aria, sembra che qualcuno si stia arrampicando sugli specchi, anche perché se qualche disturbo ci dovesse essere stato, questo si sarà naturalmente verificato dopo l'inizio del crollo. Quindi, comunque, si dovremmo riuscire a vedere l'inizio del crollo, che poi è la cosa importante, capire cos'è successo, com'è iniziato il crollo, anche per l'indagine che ci sarà, l'indagine giudiziaria, credo che questo sia fondamentale. Quindi la risposta che non ci sia a questo video io ritengo che sia inaccettabile. Il video ci deve essere e soprattutto, diciamo, la cosa mi sospetisce, visto che nel caso di molti gravi fatti di cronaca, spesso si tratta di casi di attacchi terroristici e qui non sarebbe e non parrebbe il caso, però in un sacco di questi casi, le webcam, le telecamere di sorveglianza che pullano sempre dappertutto, magicamente o misteriosamente, sempre smettono di funzionare. Quindi praticamente non ci sono mai dei video, dei fatti eclatanti che poi riempiono i nostri telegiornali. In questo caso la cosa ci interessa particolarmente, noi italiani, è una cosa successa in Italia, è successa a Genova, e tra l'altro nessuno parla della seconda webcam, si è vista l'immagine fatta filtrare di una delle due webcam, però c'è anche l'altra webcam dall'altra parte del ponte del quale non si è vista nessuna immagine. Ora, le immagini non è che scorrono attraverso dei cavi che percorrono il ponte che si abbatte, quindi vanno via radio e non c'è niente nell'aria che possa interrompere un segnale prima ancora, peraltro, che il crollo si sviluppi. Io penso che chi farà le indagini non dovrà accettare una risposta del genere, senza procedere a un'incriminazione. Nel senso che non si può accettare la risposta è che queste immagini non esistono. In Italia abbiamo ancora il processo indiziario, se un soggetto dice che queste immagini non esistono, secondo me ci sono forti indizi che ci sia un occultamento di prove, una distruzione di prove, che insomma ci sia un reato preciso. È un'altra cosa che io, da cittadino, da genovese, non posso fare a meno di suggerire. Andare un attimo a insistere presso la società autostrada e vedere se, facendo le leve opportune, questi famosi video saltino fuori oppure no. D'altra parte è chiaro che avendo i video, se ci sono delle colpe, la società autostrada avrà maggiori difficoltà eventualmente a difendersi in sede giudiziaria, quindi ci sarebbe anche un movente per l'eventuale sparizione. Nessuno a Genova, almeno poca gente a Genova, sapeva che si chiamava Ponte Morandi, nel senso che per noi era il ponte sull'autostrada, semplicemente. Io stesso ho scoperto che si chiamava Ponte Morandi solo dopo che è crollato. Ma non sono il solo, insomma, tutta la gente che conosco lo chiamava semplicemente il ponte sull'autostrada. Qualcuno lo chiamava anche il ponte di Brooklyn, ma insomma questo mi sembra un pochettino eccessivo. Finiamo ora in bellezza questo piccolo nostro commento su questo tragicissimo fatto, assegnando il premio Cassandra Fassino al medico Roberto Burioni. Perché? Perché a giugno dell'anno scorso, impegnato evidentemente nella polemica sui vaccini, il medico se ne uscì con il seguente post che ora vediamo. Il ponte che consente all'autostrada A1 di superare il fiume Po all'altezza di Piacenza ha 16 campate. Sono troppe, sono poche, ci vuole un esperto di ingegneria civile per dirlo, e infatti nessuno degli automobilisti che ci passa sopra azzarda ad obiettare. In entrambi i casi ci si fida del fatto che gente estremamente qualificata, che conosce bene l'argomento, abbia fatto i calcoli corretti ed abbia deciso il giusto numero di campate e o di ruote. Poiché questo era evidentemente un argomento mirato a suo tempo a Zittiri che stesse ponendo domande sulla pericolosità di certe vaccinazioni, facendo leva sull'autorità degli esperti anziché su argomenti nel merito, direi che alla luce del tragico crollo del ponte Morandi di Genova, l'argomento di Burioni assume un importante nuovo significato. Affidare la propria vita alla cosiddetta gente estremamente qualificata è una buona idea, ma solamente quando non ci sia il sospetto, spesso purtroppo fondato, e a questo proposito basta verificare chi è che sta pagando le loro ricerche, che si tratti di gente estremamente qualificata, ma anche estremamente corrotta. Per oggi è tutto, per PandoraTv.it, Roberto Quaglia. Per PandoraTv.it, Roberto Quaglia.